Bentornati nel canale. Oggi vi porto alla scoperta del piccolo burgo di Sovaga. Partiamo dalla piazza principale, piazza del pretorio, caratterizzata dalla pavimentazione in mattoni rossi. Qui possiamo osservare ed ammirare la chiesa di Santa Maria Maggiore, il palazzo dell'archivio e la loggia del capitale. Proseguendo lungo via del pretorio, a protezione del borgo, si erge fiera la rocca aldobrandesca, con le sue imponenti mura e la torre, che domina la polina. Piccolo borgo d'affascino medievale nel cuore della Marimma Toscana. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi do appuntamento alla prossima settimana.